Io sono Angela Kennedy, no, io sono Angela Kennedy, sposata di X, e sono la metà della coppia più felice del mondo. No, meglio, è la metà della coppia più felice del mondo. Lei non ha niente, le prescrivo un vibratore, ma non lo passo al Servizio Sanitario Nazionale. Sa come la chiamiamo questa confezione? Long Hot Weekend. Pronto? Sì, proprio il genere di notizia che nessuna madre vuole sentire, Angela. Io ho lì passito. Adesso scusa, ma sto guardando chi vuole essere milionaria. Mamma, le voglio ascoltare, mamma! Oh, d'allegria, d'animes marini. Preparo un vero. Sono sicura che se morissi, Aline, nessuno piangerebbe per me. Forse sì, il mio cane, Jack. Ed è per questo, sai, che io vorrei portarlo con me. Ma non sai persone! Ma come si può pensare? Mi accidero un po', ma io non lo devo. Ma non, 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 non. Rosa, rosa, rosa. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti